I've never been to California, never been to LA, so I'll stay home and write these songs pretend I'll make it someday, our friends are getting married Ragazzi, buongiorno! Finalmente giro questo video è da tanto che volevo girare il video della sistemazione dell'open space autunnale tema autunnale, un giorno una cosa, un giorno un'altra, non sono riuscita poi sto facendo l'inserimento a Denise, quindi vai all'asilo con la speranza di rientrare subito a casa e fare qualche faccenda, ma ovviamente piangono, i bambini piangono, quindi noi mamme ci tratteniamo lì oggi è stata più tragica degli altri giorni, però piano piano si abituerà allora, io mi affretto a fare un po' di pulizie in cucina e soggiorno e voglio mettere qualche decorazione, avete visto già il video dove ho acquistato qualche decorazione principalmente da action, altre cose le ho prese dai cinesi stamattina ho preso due tovagliette da mettere qui nel soggiorno in un negozio di casalinghi e niente, tutto qua, non riempirò casa, perché a me piace uno stile più minimal anche se 5 persone a casa, dove sto minimalismo non lo so, perché è sempre piena di roba perché giustamente siamo in 5, come fai a rimanere minimal? e quindi io cerco di mettere il meno possibile sui mobili, anche per una questione di velocità nelle pulizie, però già i giochi, già tutte queste cose riempiono casa e niente, io mi bevo la mia tisana, volevo quella alla zucca stamattina, ma non l'ho trovata evidentemente l'ultima l'ho bevuta l'altro pomeriggio e quindi ho fatto questa cosa, era malva credo quindi mi bevo la mia tisana e inizio e quindi mi bevo la mia tisana e inizio mi bevo la mia tisana e inizio mi bevo la mia tisana e inizio qua Grazie a tutti 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 Grazie a tutti